Allora anche il settembre umbertinese 2011 si riconferma come gli altri anni denso di iniziative di vario genere culturali, sportive, a carattere sociale che in qualche maniera ripercorrono in alcuni casi filoni già oramai ultra annuali, decennali. Parliamo per esempio delle fiere dell'8 settembre che da venerdì 9 a domenica 11 interesseranno la nostra Umbertide, le feste di fine 800 che dal 15 settembre fino al 18 settembre interesseranno il centro storico e non solo allargando anche le parti più limitrofe del centro che sono gli appuntamenti tradizionali senza considerare poi le celebrazioni sacre dell'8 settembre, quindi la solennità dedicata alla patrona di Umbertide. Unitamente a questo ci saranno delle inaugurazioni importanti che il Comune quest'anno ha voluto fare proprio l'8 settembre significando appunto la data importante della patrona di Umbertide che sono l'inaugurazione della nuova biblioteca, lo spostamento della biblioteca comunale dalla vecchia sede a quella nuova presso la fabbrica moderna e l'inaugurazione della mostra storica delle ceramiche rometti. Quindi anche questi sono appuntamenti importanti, unitamente a questi poi abbiamo presentato, presenteremo il venerdì prossimo 2 settembre il servizio che parte per i bambini autistici di riabilitazione e il 12 settembre intitoleremo la nuova scuola materna a Marcella Monini che tutti conosciamo, il lustrum bertidese appunto in segno della medaglia al valore. Ora, unitamente a questo poi ci sono altre iniziative molto importanti che vengono promosse alcune dai ragazzi, penso alla festaccia presso il Parco Ranieri il 2 di settembre, penso alla pesca di beneficenza dell'Avis per esempio di carattere esclusivamente di solidarietà oppure alla tombola promossa dall'AUCC ogni anno, la rassegna delle bande l'8 di settembre. Insomma, una serie di appuntamenti che in qualche maniera ci permettono anche quest'anno di passare un settembre che non è soltanto ludico o recreativo ma che è anche spesso connotato da momenti di solidarietà importanti che quindi in qualche maniera permettono alle persone sì di divertirsi, di passare, di vivere la propria città, di riscoprirla ma anche di poter farla in un senso buono, positivo e costruttivo e quindi che in qualche maniera aumenta e cimenta l'orgoglio e l'appartenenza alla comunità ubertidese.